Fedez e Lunga Axe festeggiano dopo il dramma, l'annuncio Il Lunga Axe brinda insieme a Fedez, il loro successo dopo il tragico evento. Fedez e Lunga Axe hanno festeggiato ieri sera un grande traguardo, il fidanzato di Chiara Ferragni ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è intento a dare un bacio sulla guancia al suo collega, e ha poi scritto nella didascalia dello scatto che il loro singolo senza pagare primo in classifica da ben dieci settimane. . Queste sono state le parole scritte da Fedez su social, premi in classifica da dieci settimane. Alla salute. Il successo del loro ultimo disco si riflette anche nel loro tour, le loro tappe sono infatti state tutte sold out, e a volte hanno dovuto anche raddoppiare la data, come è successo recentemente per l'ultimo loro concerto tenutosi a Taormina. . . Non è stata comunque una settimana facile per Fedez e Lunga Axe, i due rapper infatti sono venuti a conoscenza negli ultimi giorni della morte di una loro grande fan, avvenuta in seguito ad un incidente stradale. . . La notizia era rimbalzata di sito in sito in quanto i familiari avevano deciso di accompagnare la salma in chiesa con le noti di una loro canzone. . 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